Ciao a tutti amici, qui è Benny Companion, oggi siamo nuovamente su Ina Galaxy Far Far. In questo video, come avrete sicuramente già capito dal titolo, ci allontaneremo un po' dall'ambiente cinematografico per discutere di una serie televisiva britannica della BBC, arrivata alla terza stagione, che mi sta davvero appassionando, ovvero Sherlock. L'idea di uno Sherlock Holmes ambientato nella Londra dei giorni nostri è davvero interessante, resa tra l'altro con splendidi adattamenti delle opere originali di Sir Arthur Conan Doyle. La serie, creata da Mark Gatiss e Stephen Moffat, proseguirà con una quarta stagione che uscirà nel gennaio 2017, attesa dai fan da circa due anni e mezzo. Oggi, però, vorrei scambiare qualche opinione con voi su ciò che è realmente successo alla fine della seconda stagione. Chi ha visto la serie sicuramente saprà a cosa mi sto riferendo, ovvero la scena verso la conclusione dell'episodio dei cascati di Reichenbach dell'ultima reale conversazione fra Sherlock e Moriarty. Moriarty, infatti, dopo essersi confrontato con il celeberrimo investigatore e che ha realizzato che Sherlock è molto simile a lui e che potrebbe trovare il codice per fermare gli assassini che occideranno John, Mrs. Hudson e Lestrade, decide di suicidarsi sperandosi in bocca. Successivamente tocca a Sherlock che, per salvare i suoi amici, si lancia apparentemente dal tetto dell'edificio dove avviene l'incontro, in un trucco per sopravvivere poi rivelato nella casa vuota. I confronti fra Sherlock e Jim Moriarty sembrano essere finalmente terminati con il proseguire della terza stagione, ma alla fine dell'ultimo giuramento accade l'inaspettato. Esatto, Moriarty riprende vita e ricompare su tutte le emittenti televisive del paese. E sarà proprio grazie a questo che il nostro amato Sherlock ritornerà in patria, richiamato da Mycroft per indagare sul genio criminale. Ma una domanda sorge spontanea. Come fa James Moriarty ad essere ancora vivo dopo ciò che è successo nella seconda stagione? Ebbene, esaminiamo insieme le varie teorie che spiegano in modo più o meno plausibile come il personaggio interpretato dall'attore irlandese Andrew Scott possa essere ancora vivo. Partiamo proprio dalla scena del terzo e ultimo episodio della seconda stagione che avrebbe bisogno di un'attenta analisi, poiché vi sono insiti davvero molti dettagli che seguire diventeranno importanti. Moriarty, dopo aver stretto la mano a Sherlock, si spara augurando buona fortuna all'investigatore nel disperato tentativo di salvare i suoi più cari amici. Ed è qui che la situazione si fa interessante. Come possiamo vedere, il genio criminale preme il grilletto della pistola con la sua sinistra. Nelle immagini a seguire, che si svolgono molto velocemente, sembra che l'arma sia letteralmente scomparsa, come se fosse scivolata dalla mano di Moriarty. E fino a qui va bene, ma nella scena successiva la vediamo ricomparire e sembra ben stretta nella mano sinistra dell'antagonista, come se non l'avesse mai mollata, a differenza di quanto visto prima durante la sua caduta. Ma non è finita qui. Infatti, perché il sangue di Moriarty esce dal retro della sua testa, quando lui chiaramente si è sparato più in alto, in direzione del palato? E poi non ci dovrebbe essere più sangue o magari i suoi schizzi sparsi dappertutto sul pavimento? Ebbene, tenete in mente queste osservazioni perché andremo a riprenderle dopo. Ora invece spostiamoci più indietro nella puntata, quando Sherlock e John incontrano Richard Brook, colui che si presuppone essere in realtà Jim Moriarty. Un particolare che si può notare subito è che, come potete ben vedere, Richard Brook si è destro, a differenza di Moriarty, come è dimostrato più e più volte nel corso della serie. Infatti lui è mancino. Allora, come mai tutto ciò? Jim ambidestro? Quello della mano è un trucco per confondere Sherlock e gli altri? Oppure, nella più interessante delle ipotesi, quello di Richard Brook è il falso nome di un'altra persona, magari complici della Nemesi di Sherlock, che avrebbe preso il posto di Moriarty dopo la sua morte? Si potrebbe dunque parlare di fratello gemello, o in questo caso di un suo amico e collega a lui molto rassomigliante? Ricordiamo che nei racconti originali di Sir Arthur Conan Doyle, dopo la lotta presso le cascate di Reichenbach in Svizzera, dove Moriarty viene travolto dalle acque, a prendere il posto del professore e proprio un suo assistente, il colonnello Sebastian Moraine, avente anche lui un passato militare in Afghanistan, come John Watson. Che possa Richard Brook essere proprio il personaggio in questione? A sostegno di questa tesi, ci sono anche delle parole di James Moriarty a casa di Sherlock. Sai, sul letto di morte, Bach sentiva suo figlio al piano suonare una sua composizione, ma il ragazzo si fermò prima della fine. E Bach in fin di vita uscì dal letto, corsi al pianoforte e la terminò. Non sopportava le melodie incompiute. Nemmeno tu, infatti sei qui. In fondo tu hai John. Forse dovrei trovarne anch'io uno. Che sia proprio un suo ipotetico amico, un John Watson alla Moriarty, a voler concludere la melodia del professore? Questo, purtroppo, lo scopriremo solo a gennaio. Ultimamente il cast sta lavorando alla quarta stagione, dove, aprite bene le orecchie, Andrew Scott è confermato per un ruolo. Subito su web è spopolato un video dove ci sarebbe proprio lui, intento ad interpretare il professore o un suo sosia, che scende da un elicottero accompagnato da due guardie del corpo. Un'altra teoria è che la pistola usata da Jim per suicidarsi sia falsa, riempita di una sostanza usata dallo stesso personaggio per addormentare una guardia prima di rubare e indossare i gioielli della corona. Ma Holmes avrebbe capito subito l'inganno, capace di distinguere una pistola falsa da una vera, come lui stesso afferma nel primo episodio della serie. Ed è proprio per questo che Moriarty, ancora cosciente, si sarebbe liberato della finta arma contenente il siero, lanciandola da un'altra parte, per poi prenderne una vera dalla sua giacca nell'istante in cui Sherlock distoglie lo sguardo da lui. Il sangue di Norma in questo caso dovrebbe essere molto di più, come già ribadito prima, e non dovrebbe uscire dalla zona sottostante del capo, bensì un po' più in alto. Quindi esso si presuppone essere non altro che del colorante rosso contenuto all'interno di un pacchetto nascosto anch'esso fra gli indumenti di James Moriarty. Quindi ragazzi, queste erano due teorie molto interessanti e che io personalmente sostengo su come Moriarty possa essere sfuggito alla morte. Mi raccomando, scrivete nei commenti cosa ne pensate le vostre ipotesi personali sul finto, o forse no, suicidio della Nemesi di Sherlock. Detto questo, non mi resta che salutarvi, se vi va iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo entusiasmantissimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!